Vi ho portato nella mia camera da letto, nulla di hard, ma vi porto qui perché bisogna fare un restyling di queste pareti, le hanno viste tante, ho avuto tre bimbi, c'è qua un lettino qui e vedremo quali nuance attuare. Creeremo la nostra tonalità di blu profondissimo utilizzando dentro i muri d'amore di noi parisienne. I muri sono liscissimi perché sono in stucco veneziano, quindi fidatevi, pittura pura, magic wall. La pittura per essere veramente coprente non deve essere troppo tirata, soprattutto quando si va su una superficie così tanto lucida. Vedo qualche piccola striaturina, passo solo dove ho alcuni segni. Al prossimo restyling, ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS